Buonasera ragazzi che stai a guardare Paolino? Niente niente Benvenuti a Love Lab eccoci qua siamo arrivati ormai 5 6 7 luglio e abbiamo qui con il nostro stand che vogliamo dire Paolino qualche prima impressione? Fantastico e diciamo che siamo Paolino oggi ha lavorato un sacco appena arrivato è già stanco sto ragazzo a guardare soprattutto no vabbè insomma saremo qui per questi tre giorni e vi terremo aggiornati su tutto quello che succede avremo ospiti tutte le pornostare che sono qui e poi tante altre cose sì anche perché ecco purtroppo per chi non potrà venire a questa bellissima fiera noi comunque ci saremo e vi terremo aggiornati con tre dirette al giorno come diceva Paolino con ospiti insomma tante sorprese soprattutto con almeno per oggi con la nostra Kate eccoci qua con la nostra bellissima Kate Gomiero per chi viene oggi la trova da domani già no sperando che arriva ancora non è arrivata però arriverà ecco c'è un sacco di gente Paolino c'è già un sacco di gente che va che viene sì soprattutto viene perfetto soprattutto viene sicuramente non c'è dubbio bene allora noi vi lasciamo e niente ci vediamo comunque ci sentiamo tra poco andremo in diretta verso le 18 18 e 30 comunque adesso informeremo sulla nostra pagina mi raccomando seguiteci ciao